Andiamo al titolo dell'incontro, vite e morte si possono prescrivere? È una provocazione ovviamente, però gli sviluppi della biotecnologia ha rivoluzionato un po' l'impostazione etica e morale di questo argomento. L'argomento vero è il biotestamento, ossia la dichiarazione testamentale che la persona può esprimere nei momenti in cui dovesse non avere il controllo della coscienza, quindi non dovesse essere in grado di intendere volere. Ecco, l'odierno convegno intende fare luce sulle differenti filosofie che sottostanno al problema. Ovviamente noi come medici cattolici vogliamo esplicitare meglio, anche grazie ai nostri relatori, la posizione della Chiesa che non è, come spesso si dice, sempre in antitesi con quella laica. Questo argomento presenta anche un aspetto etico, etimologicamente etico significa ciò che è giusto, ciò che è bene per l'uomo, ma cosa è giusto fare in questo caso? La domanda è posta in maniera alquanto delicata, in quanto le dichiarazioni anticipate di trattamento, testamento biologico, non hanno ancora avuto un debito spazio nella riflessione etica. Non si tratta di capire se è giusto o non è giusto porre in essere un atto di dichiarazione anticipata di trattamento, ma si tratta di capire in che modo queste dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere poste in essere. Sulla liceità ormai anche la Chiesa Cattolica e concordi, interventi anche di illustri esponenti come il Cardinal Bagnasco, rilevano la necessità di una legiferazione in merito al testamento biologico. Ma bisogna intendersi su quali valori salvaguardare, su come la vita debba essere salvaguardata nella sua intangibilità, nella sua sacralità. Innanzitutto il confine della vita è il termine naturale e noi sosteniamo questo principio che dal concepimento al termine naturale la vita vada trattata con la sacralità che merita. È chiaro che in una visione economicistica della vita, laddove la vita dell'uomo viene soltanto considerata se di tipo produttivo, anche l'uomo potrebbe rientrare nella rottamazione sociale. Credo che bisogna, che l'uomo resista a questa rottamazione e attraversi un ulteriore suo perfezionamento e beneficio che lo porti ad essere storico, un po' come le auto.